Ciao a tutti ragazzi, sono Kendal e benvenuti in un nuovissimo episodio della ModCraft Nello scorso episodio stavamo per entrare all'interno della Iron Mine, la nuovissima dimensione di Minecraft E quasi quasi ragazzi lo faccio adesso, che dite, entro? Devo entrare? Beh, se volete che io entri dovete assolutamente lasciare un mi piace a questo video Allora, sono pronto, via! In queste dimensioni finali, perché è l'ultima nella lista, ora vi faccio vedere che cosa intendo, guardate Allora, c'è Baratos e poi questa è l'ultima, la Iron Mine, quindi non appena avrò completato questa, questa striscia di dimensioni sarà completa E quindi questa è quella finale, in questa dimensione finale esistono ben due boss e oh mio dio Ma dove cavolo sono entrato? Aspetta, ma questa mi ricorda tantissimo Nooo, è identica! È identica! Vi ricordate per caso quando siamo entrati dove era? Negli abissi? Se non sbaglio era o gli abissi o Grecon, non mi ricordo C'era però una dimensione che aveva lo stesso identico spawn Ovvero che mi trovavo qua con questi alberi C'avevo una torre a sinistra E una montagnetta a destra Sarà una coincidenza, non lo so Comunque, dobbiamo farmare degli oggetti Dei silver coin e qualcos'altro da dare a un professore Per ottenere... oh mio dio, ma che è un diavolo? È un diavolo questo! Ok, dobbiamo trovare questi oggetti, vi dicevo appunto Per commerciarli con il professore Io non so dove sia il professore O cosa sia il professore Per poi evocare I mostri I boss di questa dimensione Oirologo O aerologo O aerologo, non lo so Wow, sto posto è strambo Sto posto è molto più strano di tutte le altre dimensioni che ho visitato fino ad ora No, vabbè, aspetta In realtà la dimensione con gli alberi con gli occhi Quella era veramente strana Quella era la dimensione più strana di tutte Senza alcun dubbio Ed ecco qua una dimensione stramba Che probabilmente ha il professore all'interno No! È uno spawner, è un dungeon Oh, oh, oh Eh, allora, voi non sapete contro chi vi state mettendo Devo per caso ricordarvelo Ok Gold coin, bene Nello scorso episodio avevo detto che non se ne trovano molti Ma in realtà l'abbiamo appena trovato E in più silver coin che ci servirà per creare Eh, se non sbaglio Come si chiamava? Spring, se non sbaglio Eccolo, è questo Questo qua ci serve per un boss Ok E l'altro come si chiamava? E l'altro si chiama il silver coin Noi dobbiamo ottenere questo qua Per evocare il capo di questa dimensione Ma tra l'altro questa è una dimensione totalmente oscura C'è il sole ma non si vede nulla È tutto quanto buio Wow Allora, ok Se non sbaglio Devo commerciare Eh, dei Delle monetine Di argento Con un certo professore Sei tu il professore? Tu sei il professore Quindi vediamo Eh, no Non mi serve a nulla questo Non mi serve a nulla questo Mi serve questo Esatto Cinque monete d'argento Più due magnet shard I magnet shard Come si ottengono? Non ne ho la minima idea Aero crate Ok, invece per questo mi serve un aero crate Una cesta di aero Professore, mi attenda qua per favore Vado a prendere tutto ciò che le serve Cerchiamo di prendere qualsiasi tipo di blocco ragazzi Perché a questo punto io non so dove posso trovare questi oggetti Però sono sicuro che riusciremo a trovarli Quindi cerchiamo di farmare quanto più possibile Cosa mi ha dato? Mi ha dato il magnet Oh Stupido diavoletto Fanno paura Perché hanno le corna Sono neri Sembrano super cattivi E tu chi sei? Posso ucciderti? No Sembrerebbe di no Non lo posso attaccare però Non mi dai il messaggio che non posso attaccarlo Non posso attaccarlo e basta Non posso utilizzare né la spara né l'arco Ok Quindi come cavolo lo attacco Con l'ascia Ci penso io No, neanche? Scusa, col piccone allora? No Bene Evidentemente per ucciderlo forse Mi servono delle armi Cioè tipo dei fucili? Non ne ho idea Allora Abbiamo trovato un magnet shard Cog block No Allora ci serve Questo qua E questo E ce ne servono un bel po' Per spawnare il primo boss della dimensione E fargli capire che in questo mondo L'unico sovrano sono io Io sono l'unico boss di questo mondo E loro devono andarsene via Ma che cavolo è sto coso? A te non ti posso attaccare? No Me lo ricordo Tu sei un diavoletto Addio E qua giù che cosa c'è? Non si può scavare Ci deve essere un'entrata allora Se non si può Oh Ecco l'entrata Cos'è? Una specie di labirinto dorato Ragazzi Mi dispiace se vi stanno facendo male gli occhi Capisco Che Non è la cosa più bella da vedere È un pochettino confusionaria Tutto questo colore Tutto questo Oro Però Io devo entrarci E devo cercare di capire che cosa Si trova Al suo interno Sembra tipo come se ci fosse una specie di Mostro sacro Prendiamo tutto Sentite il tamburo Oh È questo? Ma no ragazzi Ma che sono questi suoni? Ok Questo qualsiasi cosa sia Mi servirà sicuramente Per spawnare il boss Sì 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 Sono abbastanza sicuro Ok Cerchiamo di uscire da questo labirinto Perché Io ancora non ho tutti gli oggetti Per spawnare i boss Quindi non mi serve a nulla stare qua dentro Sento tamburi Sento Distorsioni del suono E credo di essermi appena perso No Ok Quindi ragazzi Devo ottenere Delle monete d'argento E poi Devo ottenere anche Questi magneti Ok Ok I magneti non sono difficili da ottenere Perché li ho ottenuti uccidendo i mostri Di mostri ne dovrei trovare abbastanza qua in giro No? Tipo te Eeeh Ah Ho detto Ehi addio E tu chi cavolo sei? Voltron Oddio sembra un pokemon Morto Però non c'è dato nulla Ehi dammi per favore Un magnetic shard Ma data? No Mi danno i tokens però Che ci faccio i tokens? Nulla Quel magnetic shard Me l'ha dato uno dei diavoletti Quindi devo cercare i diavoletti E devo uccidere proprio loro Ma qui c'è un altro dungeon Fantastico Voi mi servite Come se mi servite? Oh gold spring Ok Quindi adesso C'ho già un oggetto Per Eeeh Per 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 Spawnare Il boss Che questa qua mi serviva E che tu che cavolo Stai cercando di fare? Ciao No dai Non ci credo Povero targetto Si è incastrato Ci penso io A porre fine Alla tua sofferenza Addio Ok ok Abbiamo trovato il gold spring Adesso dobbiamo trovare soltanto Eeeh Un altro di questo E altri tre di questi E dopodiché possiamo spawnare Entrambi I Mostri Entrambi i boss Di questa dimensione Ormai ragazzi Io vado a caccia di statuette Li voglio uccidere Tutti Queste robe non mi servono a nulla Quindi le butto Chi ha usato attaccarmi? E tu chi sei? Non lo posso attaccare? No Raga Grave pericolo Oh Si 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 Prendi tutto Rompi gli spawner E scappa via Oh mio dio Lo sono vista brutta Pensavo che mi stesse Teletrasportando da qualche parte Del resto come vedete Aveva una batteria Non so che cosa gli serva Con la batteria Ma a noi servono soltanto Altri due Monete d'argento E dopodiché potremmo ottenere Finalmente ciò che ci serve Ok Lì c'è un altro labirinto Però lì Aspetta 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 Cosa c'è qua? Vuoi vedere che qua Trovo Oh Un altro dungeon Ok No ma ragazzi A me serve A me servono Delle monete d'argento Non mi servono Le monete d'oro Dannazione Quale troverò? Eccole Fantastico Tutto questo mi serve Ho detto Vi Oh no 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 Questo culo cattivo Lui non riesco ad attaccarlo Allora Diamoci la gambe Ok Salve prof Allora A me serve Assolutamente Questo fantastico Silver coin Grazie mille È un piacere fare affari con lei Oh Bene Qua ci abbiamo Il labirinto Non appena completerò Questo labirinto Dovrei trovare L'oggetto Che mi permetterà Di evocare Il mostro Di questa dimensione Credo che No Non è di qua Che cavolo Di qua? Forse è di qua Sì 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 Eccolo Siete pronti ragazzi? Evochiamo il boss Finale della dimensione Vai Oh Ma che cavolo Silverfoot Ok Piede D'argento Mi dispiace Piede D'argento Ma sei Ufficialmente Morto E mi ha dato Ovviamente La sua statuina Fantastico In più C'ho anche questi Quindi In futuro Potremo spawnare Anche il secondo Boss Di questa dimensione Chissà che cosa Ci farò Con queste statuine Non appena Completerò La mia collezione Beh ragazzi Io spero Che questo video Vi sia piaciuto Ovviamente Vi invito A lasciare Un bel mi piace Dal vostro Kendal Che continua A volare Nell'oscurità È tutto E noi ci vediamo Domani Con un prossimo Video Ciao